Ciao a tutti amici, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccomi oggi vi saluto dalla stradezza che porta al bar, perché al mare non si può, questa forse è la spiaggia, è un lungomare, perché la spiaggia non si può andare perché la sapontano oggi è troppo forte. Allora ho detto vado dalla strada, e poi anche perché sono direttamente oggi. Ciao, sono direttamente oggi vado alla festa di San Toronto, oggi è l'ultimo giorno, io comunque vado di mattina, ho scato la sera e è bello con le luminarie, però io vado di mattina, di sera non posso andare, allora vado di mattina. Tanto che è tutto. Ok amici, adesso arrivo al mare, mi voglio capire se è quella prossima che arriva, che mi mostra a lette. Ciao a dopo.